Angelo Raffaele Pisani. Katia Follesa. Comica. Attore. Preciso, generoso, riflessivo. Testarda, solare, permalosa. Che figo! Che merda! Ci siamo incontrati a Zeylig. Lei era venuta a vedere le prove della trasmissione Zeylig. Folgorante perché era una sua fan e quindi mi sono avvicinata per chiedergli un autografo su Davo. Il fatto che fosse completamente diverso da quello che ho visto sul palco. Un'altra persona. La simpatia e l'energia. Katia è una donna estremamente generosa. Umile. Non porta mai le cose a terra. Ma non è vero! Non è vero. È che invece lui trova il problema laddove non esiste. e se non c'è lo crea lui. Io. Lei. Io. Lei. Lei. Io. Tutto io però! Mi sveglio e sveglio mia figlia. Mi sveglio, sveglio la mia compagna e sveglio mia figlia. Ma non è vero! Ignoranti. Il naso vale il naso di Katia. Ma smettila! No. I prepotenti. Miguel Bosé. Anna Marchesi. Tre giorni fa. Questa mattina in auto. Allora, se escludiamo le province anche, perché Paolo fa provincia? No. Molte parecchie. Troppe. Stesi a terra più della superficie del Monise. Leggere. Leggere e leggere. Mi piace cucinare. Mi piace cucinare con mia figlia. Mi piace tantissimo fare i dolci. Ma anche il dolce far niente. Mi piace molto. Sto leggendo. La medicina naturale alla portata di tutti. Calipso di Sedaris. Il libro l'abbiamo scritto a quattro mani. Io la mia parte, lei la sua. L'abbiamo scritto a tutti e due, ma è chiaro che poi la mia parte sarà quella più divertente. Viva, spero viva. Viva e nonna, con tanti nipoti. Io ho i capelli lunghi, la barba lunga e un bel cane, con la mia compagna sempre, sempre insieme. Sempre se sono viva. E la nostra figlia che è entrata con noi perché è fidanzata e me che sono. Ho uscito questo libro, mi raccomando. Quindi, lo acquistate, leggetelo e lo facciamo. Una cosa che Angelo si è dimenticato di dire, in realtà, è che i proventi del nostro libro andranno a favore del progetto che abbiamo costruito io e Angelo per la nostra casa in campagna. Manca solo la piscina, quindi se lo comprate noi... Ciao!